Perché la Chiesa sente che in questi momenti tutti siamo uniti per il bene comune e il bene comune deve superare ogni idea, ogni filosofia e deve portarci in un cammino nel quale tutti costruiamo qualcosa per questi ragazzi e per la nostra città. Grazie, grazie. Daniele, anche un po' di emozione essere qua su questo parco, in questo momento. Io veramente non ho parole, nel giro di pochi giorni ho avuto due emozioni talmente forti che non so se ce la faccio veramente a reggere, io ero lì quando è affondato il Camorra ed è stata una cosa, guardate, io non vi voglio raffistare questa serata di grande solidarietà e di grande amicizia che ci state offrendo, io sono commosso di vedervi tutti qui. Quindi sono passato da quel momento terribile, quando il Camorra nel giro di pochissimo tempo ha emesso una specie di lamento, una cosa stranissima, una specie di lamento in un minuto e mezzo poi è affondato e con quello è affondato in quel momento le nostre speranze. Ora essere qui stasera, di fronte a voi, belli come il sole, siete belli veramente come il sole tutti, non ci credo, cioè è un'altra emozione diametralmente opposta ma bellissima. Il progetto, come ha detto Luca, come ha detto Paolo, è quello che conta, cioè noi abbiamo voluto dare a questi ragazzi l'opportunità di poter lavorare, quindi avere la dignità del lavoro perché questi ragazzi lavoravano ma erano retribuiti, quindi avevano anche la possibilità di poter gestire i loro soldi, e lo facevano con molto orgoglio, come d'altronde con molto orgoglio vivevano le loro serate sul Camoro parlando con le persone, sentendosi importanti, sentendosi considerati tra tutti. Quindi non possiamo permettere che questo sogno finisca qua. Quindi di nuovo veramente grazie, grazie a tutti, vi vorrei abbracciare uno per uno. Grazie Daniele, un grazie ai ragazzi che sono straordinari, che ora staranno dietro le quinte oppure si godranno lo spettacolo. Il concerto va a cominciare con tutti gli artisti che ringrazio, sia i musicisti che i conduttori, i comici, i cabarettisti, hanno detto subito noi ci siamo e quindi sarà un divertimento. Grazie di nuovo, grazie veramente.